Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il TG10. Apriamo questa edizione del nostro telegiornale con la notizia di una tragedia che si è consumata allo stabilimento petrolchimico di Ravenna. Perdere la vita sul posto di lavoro, un operaio gelese di 43 anni. Sentiamo. Perdere la vita sul posto di lavoro, è successo ancora. Si allunga la scia di sangue delle morti bianche, questa volta la vittima è un operaio gelese, teatro del drammatico evento e il petrolchimico di Ravenna. Nuccio Pizzardi, questo è il nome dell'uomo che ha perso la vita a 43 anni, da molto tempo si era trasferita al nord Italia e lavorava per conto di una ditta esterna allo stabilimento industriale di Ravenna. La tragedia, come riportano i quotidiani di Ravenna, si è consumata nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 14.30, quando probabilmente l'operaio di origini gelesi, durante un intervento di manutenzione ad una conduttura, sarebbe stato investito dallo scoppio di un tubo. Soccorso sul posto è stato caricato sull'ambulanza, ma il cuore di Pizzardi durante il trasporto ha cessato di battere. L'uomo lascia la moglie e una figlia di 13 anni. Il drammatico evento è stato ricordato a Ravenna in consiglio comunale, dove l'assise civica ha osservato un minuto di silenzio. Saranno le indagini in corso a chiarire le dinamiche dei fatti accaduti. Di certo resta che ancora una volta il lavoro si trasforma in tragedie e questo non è che uno dei tanti episodi che portano all'interruzione della vita dei lavoratori, hanno detto i sindacati FIM, FIOM, WILM di Ravenna. Militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Gela, gli ordini del comandante Massimo De Vito, su segnalazione di una pattuglia di carabinieri, hanno sanzionato il gestore di un impianto di distribuzione di carburanti e il titolare di una panineria ambulante per avere ricaricato, non rispettando le basilari, norme di sicurezza, tre bombole di GPL per uso domestico con GPL per autotrazione. L'attività dei militari ha permesso di garantire l'incolumità pubblica, tenuto conto del fatto che le bombole venivano usate per alimentare una panineria ambulante, usate in occasione di feste di paese o mercati, luoghi comunque solitamente affollati. L'illecita attività di imbottigliamento di bombole di GPL per uso domestico con GPL per autotrazione è espressamente vietato per i connessi alti rischi di incendi ed esplosioni, poiché la bombola che si usa in casa, a differenza degli impianti GPL installati sulle macchine, non ha nessuna valvola per controllare la pressione. Dunque il carico avviene a sensazione del gestore dell'impianto senza poter verificare l'effettiva pressione all'interno della bombole, quindi con il pericolo di deflagrazione. Il gestore dell'impianto dovrà pagare una multa da 5.000 a 10.000 euro, mentre il cliente da 2.000 a 4.000 euro. Cambiamo argomento, nuovo incontro ieri al Mise sul protocollo Eni, risvolti in corso, lì illustra i nostri microfoni il vice sindaco Simone Siciliano. I risvolti sono duplici, uno riguarda la riconferma degli investimenti e dei passavanti sulla riconversione green, quindi gli appalti per la fornitura e la strumentazione saranno chiusi a maggio, la gara per la fornitura dello steam reforming sarà chiusa anch'essa a maggio e l'avvio delle procedure alla modifica sostanziale dell'AIA già ad aprile Eni sarà in grado di presentarle. A queste si aggiungono tutta una serie di attività riguardanti il risanamento ambientale, che vedono in questo momento assorbire circa 400 persone, quindi tra precantiere della raffiniera green e cantiere di bonifica, altri ne verranno autorizzati a breve, credo che già a maggio ci sarà una convenza dei servizi alla regione per chiudere il procedimento sull'ISAF, quindi con l'avvio di uno dei più grandi cantiere di bonifica attesi da decenni. A queste si aggiungono positivamente tutta una serie di iniziative che Eni ha presentato, di cui si era già discusso in passato, guarda ad esempio le tecnologie per produrre bioolio da rifiuti umidi, le tecnologie di bonifica con bioremediation, fitoremediation in area SIN, l'attività per lo sviluppo di una stazione di Gennello sul Mediterraneo, tutte attività che verranno chiusi, credo in un paese di settimane, con accordi dedicati tra amministrazione comunale, regione, Eni ed eventuali altri enti competenti. Alcune perplessità invece sono state mosse riguardanti la parte afferente al grosso degli investimenti relative all'upstream. Si vede un po' di incertezza legato a questa farraggenosità delle procedure che vedono attendere adesso, per il giorno 9 giugno, una sendenza di Stato per dirimere la questione piattaforma sì, piattaforma no. L'incontro di ieri al Mise non può essere considerato utile al territorio e in particolar modo ai lavoratori. Lo scrivono in una nota inviata alla stampa le segreterie confederali CGL e Cislewil, che ribadiscono un'antica sensazione che sempre più prende forma. L'Enia, Gela, Trevolti, Raffineria, Enimed, Sindal. Questi tre volti della stessa azienda assumono condotte diverse rispetto agli accordi sindacali che vengono siglati. La prova madre è data dalla certezza che mentre i vertici della raffineria di Gela danno seguita alla lista di disponibilità, i vertici Enimed e Sindial, anche se stazione al Paltà appaltanti, non tengono in considerazione gli accordi. Risultato evidente, leggiamo ancora nel documento, cioè decine di lavoratori, metalmeccanici ed edili potrebbero lavorare, invece sono esodati da mesi. Oggi il sindacato confederale registra piccoli passi in avanti per il progetto Green, ma calma piatta su altri progetti ad iniziare dalle fasi di progettazione e cantierizzazione della piattaforma Prezioso K. Il sindacato, ancora una volta, leggiamo ancora nella nota, chiede ai governi una risposta certa sui fondi destinati agli ammortizzatori sociali da agganciare all'avvio dei cantieri. CGL, Cisle, Will, congiuntamente alle categorie regionali e territoriali, FICTEM, CGL, FEMCA, CISL, Will, Tech, Will, chiedono al governo regionale una convocazione urgente per comprendere e definire la strategia istituzionale rivendicativa da utilizzare nei confronti dell'ENI che non può e non deve usare alibi per rallentare investimenti già ad oggi in ritardo, concludono i sindacalisti. Dopo quasi un anno dalla soppressione delle commissioni mediche di accertamento delle invalidità civili, notevoli sono i disagi patiti dai cittadini gelesi che usufruiscono di questo servizio. Esprimiamo grande rammarico nel vedere che tutte le delocalizzazioni avvengono sempre in direzione di Caltanissetta. La città di Gela ha sofferto e continua a soffrire la disattenzione del governo regionale nei confronti del nostro territorio. Lo scrivono in una nota ai vertici locali del Partito Democratico con il segretario cittadino Peppe Di Cristina. Vero è che per i casi più gravi esistono le visite domiciliari, ma è altrettanto vera e inaccettabile che le richieste delle visite necessitano almeno di 4 o 5 giorni di attesa. Riteniamo che riportare a Gela le commissioni di accertamento delle invalidità civili rappresenti un diritto sacrosanto dei cittadini, i quali non possono essere trattati come fruitori del servizio di serie inferiore. Il sindaco, leggiamo ancora nel documento, quale massimo responsabile della tutela della salute pubblica deve sposare questa battaglia in tutte le sedi competenti. Chiediamo, concludono i firmatari, sono i componenti del direttivo locale del Partito Democratico, ognuno con le proprie competenze di attivarsi affinché vengano posti in essere tutti gli atti finalizzati al ripristino delle commissioni di accertamento delle invalidità civili nella nostra città. Cambiamo ancora argomento, sarà celebrata a Gela a partire da venerdì prossimo la festa dell'abbondanza organizzata dall'Associazione Demetra e Core di Gela. Sentiamo. Sul sipario, venerdì 22 aprile prossimo, per la festa dell'abbondanza, l'evento organizzato dall'Associazione Demetra e Core, patrocinato dal Comune di Gela, permetterà agli operatori agricoli e artigianali di promuovere i propri prodotti e le loro attività, ma anche di far conoscere nuove metodologie produttive. Un programma ricchissimo di eventi, soprattutto dal punto di vista musicale, dal punto di vista teatrale e anche cinematografico, nonché con delle conferenze molto contestuali rispetto a quello che è il problema dell'agricoltura e anche delle nuove frontiere di quello che può rappresentare come la cana, poi il cotone o i frumenti antichi. Noi stiamo cercando comunque di valorizzare anche gli artisti locali, come musicisti e attori, anche perché sono stati un po' messi da parte, quindi cercheremo di dare molto più spazio tramite questo evento. In Piazza Salandra verranno i musicisti e i cantanti gelesi, mentre nel Sacrato della Chiesa Madre ci saranno degli attori con opere teatrali, musicale e soprattutto anche piccoli attori. Abbiamo invitato praticamente la squadra del Gela Calcio, che dopo una stazione in dosi e sbande con la vittoria di domenica ha vinto il campionato, per cui abbiamo invitato tutta la squadra del Gela Calcio a partecipare con noi nella serata della domenica. Speriamo che ci sia anche l'ingegnere Tuccio e che magari ringrazierà anche lui i tifosi. Un ritorno alle nostre tradizioni, sia al mondo agricolo. Demetre e Core erano due antichi riferimenti religiosi al periodo greco, che rappresentavano proprio l'abbondanza che veniva data dalla terra, la prosperità. È un'iniziativa nuova, speriamo che i cittadini gelesi la gradiscono in modo tale da poterla ripetere negli anni futuri. E adesso sentiamo il presidente dell'associazione Demetre e Core. Demetre e Core è un'associazione che si sta occupando dell'organizzazione di un evento importante per il rilancio dell'agricoltura. Si parla ormai da anni di un settore completamente in sofferenza, voi invece guardate al problema cercando di sfruttarne ancora le potenzialità. Sì, a parte l'agricoltura, rilanciare anche l'artigianato, perché come ben sappiamo sono stati sempre messi in un secondo piano, in secondo posto. Niente, la festa inizierà venerdì giorno 22 alle ore 17 con l'inaugurazione ufficiale. Per l'occasione abbiamo invitato il signor sindaco, tutta l'amministrazione e la sua giunta con la benedizione di Monsignor Padralabiso. E si concluderà domenica giorno 24 e in tarda serata. Come sarà articolata questa tre giorni? Allora, questa tre giorni sarà articolata. In Piazza Umberto I ci saranno dei vari stand in cui i produttori agricoli e artigiani esporranno i loro prodotti e faranno conoscere a tutta la città di Gela. In Piazza San Francesco invece ci sarà un'esposizione di mezzi agricoli antichi e moderni. Sul Sacrato della Chiesa Madre invece ci sarà un palco in cui ci sarà teatro, balli di gruppo, delle varie scuole di danza e concerti varie. Questo si ripeterà nei tre giorni, cioè sabato e domenica. Sabato invece ci sarà una sfilata con abiti prettamente siciliani, il carretto siciliano tutto addobbato a tema e in questi tre giorni ci saranno pure due convegni alle 10 del mattino molto importanti con relatori specializzati nel settore. Sempre in piazza? No, i convegni verranno fatti alla Pinacoteca del Comune. Potenziare i servizi di scolarizzazione per gli adulti di Gela e istituire corsi di alfabetizzazione per i richiedenti asilo è il risultato che il Comune ha concordato con il Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti ieri nel corso di una riunione sul tema della dispersione e l'abbandono scolastico con gli amministratori locali del Nisseno alla quale per l'amministrazione di Gela ha preso parte l'assessore alla pubblica istruzione Licia Abela. Abbiamo gettato le basi per una solida alleanza, ha commentato l'assessore con l'obiettivo primario di ridurre notevolmente la dispersione in giovane età e la possibilità del recupero per gli adulti oltre l'età scolare. La sinergia rinsaldata dal Comune di Gela riguarda l'offerta didattica dell'Istituto Comprensivo San Francesco che nel pomeriggio ospita le attività del Centro Provinciale con l'istruzione degli adulti. Numerose richieste pervenute finora al Comune di Gela per ottenere l'assegno civico non risultano compilate correttamente quanto hanno riscontrato gli uffici del settore servizi sociali nel corso di un primo esame delle domande protocollate dei soggetti in difficoltà economica e sociale. L'assessore Licia Abela raccomanda ai richiedenti di prestare molta attenzione nella compilazione del relativo modello prestampato in ogni sua parte e se è il caso di chiedere assistenza all'ufficio di segretariato sociale in quanto si rischia l'esclusione dal beneficio. Il modello dell'istanza relativa all'assegno civico che va presentata entro il prossimo 2 maggio al protocollo generale o inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno è disponibile allo sportello di Viale Mediterraneo o online sul sito del Comune di Gela. Tornerà domenica 24 aprile prossimo la festa delle oasi e riserve Lipu con una giornata rivolta a tutti per staccare dal caos delle città e riscoprire colori e suoni della natura. Una giornata di festa che coinvolge le più belle oasi e riserve naturali Lipu ha una rete di 30 aree protette che copre una superficie di quasi 5.000 ettari accoglie oltre 4.000 differenti specie animali e vegetali e ospita dai bambini delle scuole ai turisti stranieri e italiani. A Gela l'appuntamento è previsto presso la riserva naturale Viviere di Gela Lipu che dal 1997 con impegno quotidiano protegge, preserva e promuove una ricchezza che appartiene a tutti. Dalle 9.30 in poi ci sarà la mostra fotografica, un mondo di ali, immagini dalla vifauna del Viviere di Gela e la liberazione di rapaci e uccelli acquatici recuperati dal centro recupero fauna selvatica di Ficuzza. Si svolgerà a Caltanissette prossimi 6, 7 e 8 maggio il quarto corso base per diventare clown di corsia. Il progetto formativo è organizzato dall'associazione VIP Viviamo in Positivo, federata con VIP Italia Onlus. Per informazioni bisognerà contattare clown smidollata e sordella ai numeri 328 88 299 48 oppure 328 95 60 273. C'è anche una pagina Facebook e un sito internet all'indirizzo web www.vipcaltanissetta.it. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, torniamo tra poco, restate con noi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale, settimo congresso della Divina Misericordia, a breve a Gela. È particolare in questo servizio. Si svolgerà domenica 24 aprile al Palacossiga di Gela a partire dalle 9 del mattino il settimo congresso regionale della Divina Misericordia patrocinato dal Pontificio Consiglio per i laici e il Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione. Con il tema dell'anno giubilare, siate misericordiosi come il Padre. L'evento quest'anno, ha detto Don Pasqualino di Dio, organizzatore dei congressi e missionario della Misericordia, si inserisce felicemente nel contesto del Giubileo della Misericordia che Papa Francesco ha proposto a tutta la Chiesa come itinerario di autentico rinnovamento interiore e come speciale attualizzazione sul piano pastorale del tratto specifico dell'amore misericordioso di Dio verso ogni sua creatura. La scelta della bella città di Gela con le sue risorse, anche se è considerata da tanti periferia dell'Italia, non solo per la sua collocazione geografica, diventa un giorno all'anno polo di misericordia e di rigenerazione. Misericordia vuol dire speranza, riscatto, dignità, avere un cuore spaccato, cioè compassionevole, e non indurito, quel cuore che diventa abitazione di chi soffre, di chi non ha lavoro, dell'immigrato, di chi ha perso la speranza. Il Santo Padre Francesco ha fatto giungere ai partecipanti il suo messaggio, concedendo a tutti i partecipanti anche l'indulgenza plenaria, secondo le solite condizioni. L'annuale convocazione unica in Italia è diventato un momento di formazione e di comunione fra i vari movimenti, gruppi di preghiera e singoli fedeli presenti in Sicilia e oltre che si ispirano al messaggio biblico della misericordia, ripresentato da Santa Faustina Kowalska, promosso da San Giovanni Paolo II e che risuona costantemente nel Magistero di Papa Francesco. Il congresso è stato organizzato dalla Diocesi di Piazza Armerina, dal Comitato Mondiale dei Congressi della Divina Misericordia, dall'Accademia Internazionale della Misericordia, dal Movimento Fraternità Apostolica della Divina Misericordia e dalla Piccola Casa della Misericordia, che si occupa di oltre 700 famiglie disagiate del territorio nisseno. Siamo allo sport, vice campioni regionali e il titolo conquistato dalle atlete gelesi della Gymnastics Club di Walter Micichea al campionato federale sezione femminile che si è svolto domenica scorsa a Ragusa. Ottenuto è il pass per le finali nazionali che si svolgeranno a Pesaro nel mese di giugno. Sentiamo. Micichea e la Gymnastics Club continuano a mietere successi. Questa volta parliamo però della Serie D, la gara è andata bene, vice campioni regionali. Ottimo direi, perché siamo strafelici, stiamo festeggiando per questa è la seconda prova, la prima l'abbiamo fatto mesi fa e in questa seconda prova abbiamo alzato il numero del punteggio, quindi significa che nel frattempo abbiamo lavorato in maniera ancora più incisiva e a confronto con le 26 squadre di tutta la Sicilia siamo saliti sul secondo gradino del podio. La differenza tra noi e la prima classificata è stata di 0 a 450, significa meno di mezzo punto, quasi per capirci uno squilibrio di una testa o di una mano. Adesso avete ottenuto però il pass per le nazionali, dove si svolgeranno, quando e quanti atleti saranno impegnati? Ricordiamo intanto che le atleti sono state allenate da Esther Greco e Luigi Di Tavi, che già hanno messo mani ai nuovi allenamenti per la finale nazionale, che si farà a Pesaro il prossimo giugno. Quanti atleti parteciperanno? Sono quattro ginnaste, categoria sessione femminile. Oggi alle 17 presso la libreria Randazzo di Via Parioli a Gela verrà presentato il semestrale di microstoria, che è già al suo terzo numero di uscita. La presentazione qui a Gela mira a far conoscere l'editoriale di Respiro Regionale, a sottolineare l'importanza di un osservatorio di specialisti locali, per poter consegnare ai posteri l'analisi degli eventi in una versione quanto più possibile aderente ai fatti realmente accaduti. Inoltre, in uno degli articoli contenuti nel terzo numero della rivista, viene ricordata la figura di un grande gelese, Francesco Savà, politico e uomo di elevato spessore, culturale. Proseguono gli appuntamenti inseriti nell'82esima stagione concertistica gelese, promossa dall'Associazione musicale Giuseppe Navarra di Gela. Domenica 24 aprile alle 19.15, nei locali di Palazzo Pignatelli, è prevista il concerto lirico con Irene Capodici, Mezzosoprano e Rossella Cardullo al pianoforte. La grande storia dei Mattia Bazzar, appuntamento previsto per venerdì 22 aprile alle 21, al Teatro Comunale Eschilo di Gela. Sul palco si esibiranno l'orchestra ritmico-sinfonica e l'ensemble vocale oltrevoci diretti da Paolo Lirosi. Per informazioni e prenotazioni c'è il numero di telefono 0933 911 892. Infine siamo all'informazione cinematografica e ustica. Per 35 anni ti hanno nascosto La Verità e il film in programmazione al Cineteatro Antiduto di Macchitella a Gela. Sono tre gli orari di rotazione della pellicola, ve li ricordiamo, 17.30, 19.30, e 21.30. Sabato 30 aprile alle 21 sarà replicato lo spettacolo Attenti a quei due con Guglielmo Greco, Emanuele Giammusso e Lori Ardore. Con lo spettacolo è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito fin qui e arrivederci alle prossime edizioni. Grazie per aver guardato il nostro video.